Eccoci amici, bentrovati, bentrovati, l'appuntamento con l'informazione di Tele Iblea sul canale 178. Altro che primavera, è tornato il freddo e come? In questi giorni abbiamo avuto riaccendere i termosifoni, non tutti naturalmente, però è tornato il freddo e purtroppo c'è anche il problema per questa prossima Pasqua che secondo le previsioni almeno fino a sabato dovrebbe essere bruttino e il tempo poi dovrebbe migliorare, ma seguite le indicazioni di quelli che ce la sanno. Due o tre cose che riguardano gli spostamenti sono importanti, prima di tutto l'autostrada, dicono che il Cassa ha comunque sistemato la questione che dovrebbe andare a pagare i soldi che servono per pagare le maestranze e quindi fare in modo che si possa andare a concludere questo tratto della Siracusa-Gela che poi sarebbero i pochi chilometri da Ispica a Modica. Abbiamo detto che sono molto importanti perché se iniziano i lavori sull'altra autostrada guardate che avere questa via di sfogo sarà molto interessante perché ci potremmo trovare con quattro cantieri che partono allo stesso momento, meno male perché così si sbrigano prima, ma è chiaro che per andare a Catania diventa quasi un'odissea, questa è la realtà dei fatti. Quindi questa notizia che però dobbiamo avere la conferma con il cash e serve, ma vediamo come va a finire. Perché poi ci sono i problemi, ma cosa succede? Ti immagini se facevamo il ponte? Questa è una notizia simpatica. I cinesi, casu i cinesi, hanno detto ve lo facciamo noi il ponte, se perché soldi, ma loro sono anche disposti a fare un lavoro particolare perché per fare ponti sono bravini. Uno dice ma come i cinesi, i cinesi hanno in questi ultimi 25-30 anni fatto cose straordinarie e gli piacciono queste sfide, come per esempio il ponte a una sola campata di 3 km, è una cosa seria davvero, però pare che i cinesi siano in grado di farlo. Questo se lo fanno, perché se lo fanno i cinesi lo fanno in breve, se lo devono fare loro, stai sicuro che sono velocissimi e capaci che lo fanno meno del tempo previsto, come hanno fatto per tante cose. Con il ponte il grande problema del nostro paese, quello della continuità territoriale e quindi quando arrivano i tempi stretti del carovoli, in qualche modo verrebbe anche rallentato perché ci sarebbero i treni e compagnia bella. Il carovoli. Noi l'avevamo detto che sono solo parole, perché certo non quest'aereo, è un aereo, non è quello che vola da noi, questi sono di quegli aerei che fanno gli intercontinentali, portano 500 persone. Noi l'avevamo detto che non si risolveva così con una compagnia che non sappiamo neanche bene se è in grado poi di avere tutti gli aerei che servono, tanto è vero che a Pasqua il prezzo è quello che è. Ora dice abbiamo fatto la riunione, vediamo per il 25 aprile e il primo maggio, ragazzi il problema è semplice, gli aerei sono quelli, o ci metti altri 4-5 aerei sulla stessa tratta, ma non ci sono, non c'è questa possibilità di prendere 5 aerei che fanno il Roma Catania oltre a quelli che ci sono ora, non ci sono, quindi le compagnie sono già belle tranquille perché il loro bottino lo hanno fatto, io non vedo che ci siano speranze. L'unica cosa sarebbe stato, e qui dobbiamo ritornare ai vecchi discorsi, sarebbe stato di avere una compagnia siciliana obbligata a fare certi prezzi perché appunto è una compagnia siciliana, è come l'Aste, vabbè l'Aste lì è un altro problema, è come l'Aste, però la compagnia siciliana avrebbe avuto l'obbligo di fare alcuni voli essenziali, Catania-Roma, Catania-Milano, Palermo-Romo, Palermo-Milano, con un paio di aerei, tre aerei fatti apposta per noi, con il prezzo della, non ti dico della continuità territoriale, ma dei residenti, solo così avremmo potuto salvare il problema, ma noi lo abbiamo detto, ora Schifani sarà bravissimo, ma di aerei ne capisce poco, no? Dici ma tu che ne capisci? Un pochino di più di tante persone, perché se avessero ascoltato me, a incominciare dalla signora di Comiso e dagli altri, se avessero ascoltato me, tante cose non sarebbero accadute nel nostro territorio e saremmo andati meglio, va bene? Quindi c'è questa storia del caro voli che purtroppo non abbiamo risolto, pensiamo al 25 aprile, sarà la stessa cosa precisa, non vi preoccupate che io già ho visto a 400 Euro solo per fare un andato o un ritorno, quindi qua è un flop, ma un flop perché non si prendono le vere decisioni. A proposito però di cosa interessante, a proposito di voli, e questa notizia, io oggi ho telefonato all'Etna Trasporti e all'Interbus, devo dire che hanno fatto una cosa eccezionale, hanno messo due pullman dall'aeroporto di Catania, uno alle 22 e 9 minuti e uno a mezzanotte e 9 minuti, che vuol dire? Vuol dire che la gente che arriva all'aeroporto di Catania di sera, perché ci sono tanti voli la sera, lascia stare questo periodo, ma tanti sono i voli che arrivano, atterrano alle 10 e mezza, alle 11, che erano costretti a farsi venire a prendere o andare con la macchina, oggi sono tranquilli perché alle mezzanotte e 9, quindi se non ci sono problemi, tutti gli aerei sono atterrati, possono prendere il pullman per Ragusa. Questo è un servizio civile, un servizio civile, io ringrazio l'Etna Trasporti, il costo è sempre di 9 Euro, mi hanno detto che funziona, perché, e lo ribadiamo, lo ribadiamo, lo diciamo a tutti, se dovete tornare la sera, guardate che non ci sono sistemi migliori di prendere un bel pullman, che poi tra l'altro sono pullman buoni, ma forse fanno una fermata a coffa, neanche so se la fanno e quindi a questo punto sarebbe davvero una, è un ottimo risultato per il nostro territorio, non so chi è stato a farlo, ma devo dire che è stata un'ottima cosa, grazie, almeno non abbiamo il caro Moli, ma risparmiamo qualche soldo e veniamo con il pullman. Detto questo, ieri è stata la giornata dell'autismo, ci sono stati molti, molti interventi da parte dei personaggi politici, sono intervenuti, allora noi abbiamo realizzato un servizietto piccolo piccolo, lo ha fatto Teresa e gli diamo proprio la prima pagina, perché l'autismo noi abbiamo tanti ragazzi che hanno queste difficoltà e quindi vediamo questo piccolo servizio di Teresa Guarnuccio sulla giornata mondiale dell'autismo, vediamo.